Eccoci qua con Emanuele Zurlo dopo una gran partita della Domus Bet Catania contro il Crystal purtroppo non è arrivata la vittoria, sconfitta per i rossazzurri però Bomber avete dato tutto davvero in campo Abbiamo dato veramente tutto, faccio complimento alla mia squadra perché ha fatto una partita veramente di cuore di grinta, di tutto quanto, faccio complimento alla mia squadra perché oggi abbiamo fatto capire che il Crystal si è forte ma stiamo arrivando al loro livello, abbiamo fatto capire a tutti questa cosa qua quindi faccio veramente complimento alla squadra e ora dobbiamo essere subito concentrati perché domani c'è il derby lo chiamiamo derby perché giochiamo contro il Viareggio che è un'altra partita dura però nello stesso tempo sono arrabbiato per come è andata la partita ma nello stesso tempo sono contento perché abbiamo dato tutto quello che potevamo dare A livello personale il miglior Zurlo di questo inizio di Euro Winner Cup? Sì sì, ci credevo tanto, credimi, ci ho creduto tantissimo però purtroppo è andata così e speriamo di andare avanti su questa strada Grazie, grazie Emanuele Zurlo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti